I magnifici 5 selezionati per il mondiale, gli azzurrini del mondiale in Turchia Optimist 2022, presentatevi nome e cognome e circolo. Niccolò Pulido del Tognazzi Marine Village, Giuseppe Montesano del TPK CNT Sirena, Alberto Avanzini del Centro Nautico Bardolino, Mattia Di Martino della società Velica Barco Lagrignano, Francesco Carriere del Circolo della Bari. Allora, dalla Puglia, da Trieste, ancora da Trieste, dal Tognazzi Marine Village, dal Garda perché Bardolino è sul Garda, complimenti ragazzi, bravissimi. Quanto siete contenti con una voce sola? Tanto. Allora, raccontaci cosa ti aspetti adesso da questo mondiale? Spero di far bene, basta. Sei soddisfatto di queste selezioni? Ti hanno preparato abbastanza bene per il mondiale? Beh, penso di sì. Beh, si vedrà là. Si vedrà. Tu che dici? Mi allenerò per il mondiale e siamo una buona squadra e quindi possiamo fare bene. Quanto conta la squadra e il singolo? Allora, la squadra conta più di tutto, invece il singolo conta per se stessi ma non per tutti. Perché poi c'è pure il mondiale a squadra, non ci dimentichiamo. Sì. Vero? Sì. Che è molto importante, a metà mondiale. Sentiamo, senti tu quanti anni hai? 13. Sei piccolo per il mondiale, eh? Contento? Sì. Allora, dici anche te cosa farai adesso da qui al mondiale in Turchia? Eh, mi allenerò soprattutto sulle partenze e vedremo là. di rimollà. Cioè proprio è una cosa, come per dire, arriviamo noi. Sì, anch'io mi dovrò allenare duramente, specialmente nelle partenze e credo che conterà molto sia il singolo che a squadra. Bravo Francesco. Allora, l'ultima domanda, visto che andiamo a un mondiale, eh, quindi con la bandiera italiana rappresentiamo l'Italia a questo mondiale, chi sono secondo voi gli avversari, quelli da battere a questo mondiale? Niccolò. Eh, ma a squadre. A squadre o individuali? A squadre sicuramente l'America è una nazione forte, anche l'Atalandia e in singolo c'è sicuramente l'Ucraino Madonich e Weka. Bene, idee chiare? Tu che dici? La stessa cosa sua. Uguale, eh? Sì. Non c'è qualche outsider, qualcuno da guardare così che tu hai individuato? No, sono gli italiani. Bravo. A squadre voglio battere gli USA e invece in singolo l'Ucraino e il Weka. Eh, anche io come loro. Ma te ti ho chiesto ieri qual è il tuo velista famoso preferito a cui vorresti assomigliare? Domani? Eh, non so. Quali sono i velisti famosi che conosci? Vasco Vascotto. Vasco Vascotto, basta e avanza, vai tranquillo. Anch'io credo che gli avversari sono gli stessi che hanno detto loro. Eh, basta. Va bene ragazzi, in conclusione, fate un urlo di squadra. Qual è l'urlo di squadra? Eh? Dai, uno, due, tre. Wow! No, tutti insieme. Tre, due, uno. Italia, lea, lea, lea. Dai, dovete far meglio, ragazzi. Forza. Tre, due, uno. Italia, lea, 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 lea. E loro sono i magnifici sette dell'europeo che rappresenteranno l'Italia all'europeo Optimist 2022 in Danimarca. Ma quanto è lontana la Danimarca? Lo scopriremo. Allora, nome, cognome e circolo? Mi chiamo Leandro Scialpi e sono del centro nautico Bardolino. Gabriele Vidi e sono del Lega Navale di Ostia. Andrea Dramontano e il circolo Savoia. Arato Erobregenti e sono del centro nautico Bardolino. Emilia Salvatore di Desenzano. Eh, sul Garda. Aurora Ambroz, circolo della Vela Muggia. Bianca Marchesini, Fraglia Vela Malcesine. Allora, Garda, Napoli, Ostia, Bardolino quindi ancora Garda, che ho dimenticato? Qualcuno? Trieste, che ce n'erano tanti sempre di Trieste, Fraglia Vela Malcesine. Allora, adesso io vi chiedo, a te ho già chiesto dov'è la Danimarca, abbiamo capito che da qualche parte la troviamo, prima o poi ci arriviamo, no? Basta guidare. Però quello che ti chiedo è, cosa farai da qui all'Europeo? Beh, mi allenerò costantemente, sapendo che ho un obiettivo molto alto e mi allenerò più che posso e il meglio possibile. Anche tu, che farai? Mi allenerò con molta attenzione e prestando anche molta attenzione alle cose che sbaglio per poi avere anche una buona prestazione per arrivare all'Europeo. Attenzione e prestazione per arrivare all'Europeo già pronto, bravissimo. Napoli, eh? Savoia. Eh, anche io mi allenerò molto duramente e poi anche sul profilo mentale. Questo mi interessa. Eh, vabbè. E come si allena la mente? Non lo so. Tu hai ragione, bravissimo, number one. Cosa farai fino all'Europeo? Mi allenerò duramente. Ma scusate, tutti che vi allenate duramente, ma a scuola che facciamo? Ci andiamo più a scuola? Che vogliamo fare? Tra un po' è finita la scuola. Come è andata a scuola a volo tutti quanti? Bene, abbastanza. Abbastanza, tu hai detto bene. Bene. Abbastanza. Due abbastanza e due bene, diciamo pareggio. Passiamo alle ragazze. Allora, Bianca Marchesini da Malcesi, tu che farai fino all'Europeo? Mi allenerò. Non è che qualcuno dice, no, fino all'Europeo mi riposo, non faccio niente, basta con la vela e poi mi riprendo dall'Europeo. Invece ti allenerai. Poi tu c'hai Malcesine, c'hai il lago sotto casa, come fai a non allenarti? Sì. Ma te l'aspettavi questa qualifica all'Europeo? No, non proprio. Quindi sei soddisfatta, sei contentissima? Sì. A te non l'abbiamo chiesto, qual è il velista o la velista famosa, esclusi genitori, a cui ti vorresti, ti ispiri, diciamo, e che vorresti diventare come loro? Elena Berta. Bravissima, bella risposta, mi sei piaciuta. Ti spetterà un cappelletto rosa però, se diventi Elena Berta, mi ricordo, papà sa di cosa sto parlando. Aurora, tu, i tuoi mesi da qui all'Europeo? Mi allenerò bene e finirò a scuola. Senti, però ti posso chiedere, ti levi gli occhiali e ci fai vedere gli occhi che meritano? Ecco, brava. Ti allenerai e finirai la scuola, come finisce la scuola? Bene, bene, benissimo. Emilia? Sì, io mi alleno e poi cerco di migliorare. E poi puoi andare in oceano con Pedote, tu, quindi lo sappiamo. Senti, adesso l'ultima cosa che chiedo a tutte e tre e poi anche ai ragazzi, a questo Europeo, gli avversari che voi vi aspettate, li conoscete, qualcuno, sapete con chi dovete fare, avere a che fare oppure no? Io sì, perché ho fatto l'Europeo anche l'anno scorso, insieme alla Vittoria De Murtes, la Sofia, Bo Martini, la Clara Lorenzi che adesso è in laser, la saluto, e anche la Rebecca, anche lei la saluto. Quindi, cari rivali, stateva a cuorpo. E sì, le conosco abbastanza, anche perché l'anno scorso ho chiuso quinta all'Europeo, però ero prima per tre giorni, diciamo che... Quindi diciamo, Emilia, non diciamo niente, però secondo europeo, vieni da quinta, insomma, lasciamo perdere. Ce lo teniamo dopo. È tutto da vedere. Stranieri da guardare. Alcune sì, conosco poi. Basta. Ma li studiamo, adesso tu dici, io non me l'aspettavo, quindi li vogliamo studiare, questi avversari, questi avversari, e così andiamo a capire. Beh, vedremo chi ce l'ha. La prossima volta che uscirai a Malcese, quando sarà? No, martedì o mercoledì. Martedì o mercoledì. Tre, quattro giorni di riposo e via. Allora ragazzi, rivenite qua a voi. Stessa domanda, gli avversari che ci aspettiamo e che messaggio mandiamo? Arrivano gli italiani? Eh, io non conosco nessun avversario, però sono pronto a tutto. Bravissimo, manzo. Stessa cosa sua. No, non si può copiare, non si può copiare, bisogna trovare una cosa originale. Eh, non conosco nessun avversario. E... Sarò pronta a tutto. Bellissimo, prima quindi ha detto, copio, però vabbè, lasciamo perdere. Puoi ripetere per favore? Sarò pronta a tutto e non conosco nessun avversario. Potremmo finire, potremmo proseguire all'infinito. Eh... Io non conosco nessun avversario. Però diciamo, un messaggio da dire a tutti gli stranieri di questo europeo che arrivano, gli italiani, che faranno? Bene. Poi tu alleni la mente, quindi non c'è problema. Io... Io sono pronto a tutto e... Che casualità. Ma questo tutto, no, pronto a tutto. Che sarà mai sto tutto? A cosa siamo pronti? Andiamo lì, ci divertiamo. Se lo affronterò, voglio batterlo. Ma poi sto vento in Danimarca, quanto è forte? Tu? Eh? Ragazzi, complimenti. Adesso un urlo, aspetta, un urlo tutti insieme. Un urlo tutti insieme di squadra. Qual è l'urlo di squadra che fate tutti insieme? Italy. Decidete un urlo e fatelo, dai. Facciamo uno, due, tre. Forza Italia. Sì. Dai, uno, due, tre. Forza Italia! Grazie.